Nell'ambito del motosport uno dei campionati più divertenti e competitivi è sicuramente la Formula E, serie automobilistica voluta dalla FIA e riservata a monoposto a ruote scoperte, alimentate da energia elettrica. La ricetta del successo? Circuiti, cittadini e prestazioni da urlo. Si parla infatti di vetture con una potenza di 270 cavalli in grado di accelerare da 0-100 in tre secondi. Vetture che sono poi guidate da piloti di carattura mondiale come Prost e 2000, cui prestazioni hanno permesso la scuderia francese Renault e Dimas di conquistare il titolo costruttore l'ultimo anno.